Stop alla violenza sulle donne. Il monito arriva dall'istituto Orio Vergani che nella giornata di lunedì 29 gennaio terrà un convegno organizzato con l'alberghiero Savioli di Riccione che ha realizzato un calendario per sensibilizzare sul problema. Il calendario si apre con un paio di scarpe che simboleggiano la violenza subita delle scarpe senza corpo, delle scarpe ribaltate che rappresentano la violenza che le donne hanno subito. A terra ci sono tanti bigliettini che rappresentano i nomi delle donne violate che sono state uccise nell'arco del 2017, ci sono i nomi di battesimo delle donne uccise nel 2017 che sono tante. Io ero arrivato a 114, credo che siano state quelle complessivamente che hanno subito questa sorte nel 2017. L'auspicio del calendario che con la stessa immagine si ripropone dopo il 31 dicembre con una sola variante è che i bigliettini sono tutti bianchi perché l'auspicio della nostra iniziativa è che non ci sia più violenza alle donne, non ci siano più morti, non ci sia più acido, non ci siano più stupri, non ci sia più stupidità che accompagni il genere umano in questa follia generalizzata. L'altro aspetto che anche nella cornice mese per mese trovate i nomi delle donne uccise e poi ci sono mese per mese le dediche di personaggi importanti che si sono a vario titolo, a vario livello occupato di violenza di genere. Al convegno a cui parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, dei sindacati e dell'associazionismo seguiranno la proiezione di un video ed un cooking show realizzato dal personale e dagli studenti dell'Orio Vergani. Siccome il calendario è pieno di ricette abbiamo organizzato un cooking show con tutte donne chef che prepareranno dei piatti che verranno presi sia dal calendario che verrà presentato ma anche dai nostri libri di cucina, la cucina degli avanzi e il ricettario ferrarese. Chi si occuperà di questo? Si occuperà di questo naturalmente il direttore dell'ufficio tecnico professor Liborio Trotta con la chef Ombretta Calzolari. Prima di tutto questo siccome all'interno della scuola noi abbiamo più volte rappresentato questo problema i nostri ragazzi in varie occasioni in vari anni hanno partecipato a varie manifestazioni e la professoressa Tasso spiegherà in che modo l'istituto alberghiero agrario Vergani Navarra di Ferrara si è inserito in questa tematica. Grazie a tutti.